Ecco azione dentro l'area di rigore avversaria calcio d'ancolo dimostrazione stiamo conducendo due a zero qua al della vittoria di via nazionale si sta riscaldando Emanuele Caporale Dondino è un po' claudicante Lele col pallone circondato da tre avversari gli riprendono il pallone cercano di ripartire la Valdisancro forza ragazzi ecco 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 abbiamo ripreso la palla c'è Teidi Teidi in aria di rigore rete 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 la terza rete ad opera di Teidi Mata Teidi Mata ha ripreso la palla sulla tre quarti di campo avversaria si è portato fino all'area piccola di rigore e con un preciso diagonale ha fulminato il portiere ospite 3 a 0 per la Virtus Castelfeldano il primo tempo è terminato con il risultato di 1 a 0 sembra a nostro favore sul calcio di rigore nel secondo tempo ci sono uscite le altre due reti sempre ad opera di Teidi Mata 3 a 0 non mi vorrei sbagliare però ve lo confermo fra poco ma mi pare Teidi Mata il numero 11 ha realizzato la terza rete